Sguardo non mi sono manco presentato, sono Gaspari, parli amici di Gasparetto, solo che io l'amici non ce l'ho, quindi ho sconto, scordatevelo, ho capito cosa subito, io sono piccolo, detto però meno, e meno con una mano sola, a mano d'opera, vedi quando Gasparetto le fa così, te sta a salutare, sono 500 euro, e già arriva del conto, e poi c'ho Mario, Mario è una disgrazia, è l'assistente mio, assistente, quello che ha quattro neuroni in testa e gli eccitano pure a targhe alterne.